Paura di essere noi stessi, perché le nostre fragilità ci rendono unici come esseri, le insicurezze ci rendono unici, non abbiate paura di essere noi stessi, il prossimo pezzo è me. Per ogni approccio di essere il movimento, amhe targeting bombs, del psicologодно unico, che le nostre fragilità ci rendono uniche, delle ingresari di essere nelle grandi persone come esseri, rendono lo soffize delle cose che sono delle PRESID obligatione, non abbiate paura di essere il volume giro, non abbiate non abbiate, Grazie per la visione 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 Grazie per la visione